ciao amici sono tornata per parlarvi anche della lingerie vintage stupenda che è presente nella collezione quindi parliamo di pancerine con reggi calze di culotte con attacchi per reggi calze e parliamo di stupendi reggiseni a proiettili ve li ricordate quei stupendi reggiseni che portavano le dive come Marilyn Monroe le ha portati anche la rock star madonna poi per rispolverare un po' la moda degli anni 50 60 fino agli anni 70 si sono usati questi reggiseni particolari ecco ne ho qui uno questo è praticamente un reggiseno degli anni 70 della might form ed è in nylon riuscite a vederlo nylon con una bella trasparenza nella fascia laterale dell'allacciatura quindi nylon e cotone con una piccola percentuale di poliester made in italy ed è veramente stupendo cioè delle rifiniture pazzesche veramente pazzesche ha una bella spallina importante molto flessibile vi faccio vedere la marca mind form e questo reggiseno che è molto particolare perché è indossato e ha proiettili appunto quindi abbiamo un aspetto a punta specialmente nella visione laterale quindi questo reggiseno particolare nella collezione lo potete avere nel colore bianco nel colore nero nel colore giallino molto molto particolare anche nel colore rosa pesca che si usava veramente tanto in quei tempi quindi dei colori molto belli delicati classici eleganti e ho anche dei reggiseni in pizzo sempre sulla stessa linea e quindi vi invito a dare un occhio sul mio sito ebay dove trovate tutta la lingerie disponibile con taglie colori e tutta la descrizione della composizione del modello per essere delle perfette e stupende donne in vintage facciamo rivivere gli anni 50 gli anni 60 gli anni 70 gli anni più belli e fascinosi per una donna per la moda di una donna veramente indescrivibili ciao ciao